Ciao, benvenuti in questo nuovo video in cui vi faccio vedere l'outfit e il look di questa sera che questa sera andrò a cena fuori con una mia amica perché domani è il mio compleanno e quindi festeggiamo così insieme prima e questo è il trucco occhi allora se riesco... ok ho un eyeliner sfumato degradé diciamo le labbra rosse ho messo la tinta di Bottega Verde quella che vi ho fatto vedere nell'altro video e adesso vi faccio vedere che cosa indosso allora, ecco, indosso questo top che è fatto praticamente, non so se si riesce a vedere ma è un corpetto che avrebbe anche le spalline ma io le ho tolte e ha il... vedete il pizzo, è fatta di pizzo e questa gonna qui a tubino nera, semplice, è a vita alta vedete che è a vita alta e queste scarpe che ho preso da Pinky queste scarpe rosse, questi sandali alti così, vediamo se... ok non so se rendano, non so come farvi vedere meglio ok e nel totale è questo l'outfit ecco qua e basta il video finisce qua spero che vi sia piaciuto questo outfit e ci vediamo alla prossima ciao